Ad accettare le cose come mi vengono fatte, opposto. Io non ero assolutamente d'accordo per giocare questo partito al 10, però adesso è inutile stare qui a recriminare, non ho voglia neanche di mettermi qua a cercare degli avi, degli occhi, è un momento così, lo abbiamo affrontato e basta, adesso cerchiamo di portarlo a termine nel migliore dei modi, oggi sono stati più bravi loro e hanno vinto meditatamente, anche se onestamente il 3 a 1 o il 3 a 0 mi sembra un po' esagerato, però ci sta lei, non voglio neanche di rimportare, poi gli altri se lo fanno lì, non mi sembra, sì, sì, ma ne avevano fatti anche al primo tempo, niente da dire, è fatto una brutta partita, però ripeto, so anch'io che gli esterni sono stanchi, però vuoi giocare tu, sull'esterno, cioè questi siamo, non è che posso diventarmene altri, in determinati ruoli siamo un po' corti. Sì, però oggi non è fatto un problema di un ruolo, di un ruolo, di un ruolo in generale. No, no, oggi loro, onestamente, io penso di essere l'obiettivo quando dico che oggi loro avranno una marcia in più, penso che sia evidente, secondo me non è stato un problema mentale, a di là che dopo c'è stato il qui pro quo sul primo gol col calcio d'angolo lì, però a di là di tutto loro mi sono sembrati molto più vivi, molto più tonici. Grazie. 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 Grazie.